Non aspettare, li facciamo prima! Tutto a 29 euro, 49 euro, 69 euro, svendita promozionale fino al 4 gennaio. Ci hanno chiamato da Monteforti Erpino per Te piace lo presepio e ci hanno segnalato un presepio davvero fantastico. L'autore è Armando, capace di meccanizzare e muovere tutti i pastorelli e i figuranti. Eccolo Armando, grazie a mamma. A te ti piace lo presepio? Come no! Noi ci troviamo nella chiesa dell'Arcicompraternita, no? Esatto, esatto. Quanto è bello il presepio? Quanto ci ha messo per prepararlo? Ma 7-8 giorni, ma... 7-8 giorni solamente? Per allestirlo con 5-6 persone, quindi abbiamo fatto una volata enorme. Tra l'altro tu sei un esperto presepista da quanti anni è che prepara il presepio? No, una decina d'anni. Ah, una decina d'anni? Come ti è nata questa passione? Così, per passione. Prima non c'erano i materiali, poi li ho trovati, i motorini, le varie cose, quindi mi sono messo a fare. La particolarità di questo presepio è il movimento che tu riesci a donare a tutti i figuranti, no? Esatto, esatto. Il primo presepio che ho visto nel movimento è stato a Maratea, al Cristo, e da lì mi è nata proprio la passione per poter fare questi personaggi. Cioè sono di molti belli, ce ne può illustrare qualcuno, Armando? C'è lo scrivano per esempio, ho preso una figura di Napoli che si traduce in francese, poi c'è il pianino, quello lì che andava in giro per le varie città, ci sta la fruttivendola, una delle ultime, quella lì. E' uno dei primi pastori è la lavandaia, ha un movimento di una naturalezza che io cerco di capire ma non riesco a ricordarmi come ho realizzato. Come l'hai partorita? Esatto, mia moglie non vuole che la spogli perché non me la veste più, quindi va avanti così. Ah, perché sua moglie collabora con lei, Armando? Sì, mi veste, me li dipinge le varie figure perché le compro ora che grezzo e poi me li veste pure. C'è anche il violinista che suona. Poi vediamo sulla sinistra quell'altro figurante in movimento. Questo è il cardalano, quello dietro alla ragazzina. Tra l'altro si muovono anche gli animali, le pecore. Sono innamorati di questo momento. Questo è per esempio con antichi mestieri. Esattamente, quello è lo spirito soprattutto. E tra i mestieri ci sta anche chi si diverte e gioca a carte. Poi c'è quella che vende le spighe di una volta, adesso quasi non ci trovano più per strada. E quindi sono i vari mestieri in sostanza. Ma tu a proposito dei mestieri, che professione hai fatto per essere così bravo? Alla RAI dal 57 al 94. Quindi mi interessavo degli impianti di alta frequenza. L'ultimo lavoro che ho fatto è stato Italia 90 a Napoli, con tutti i vari collegamenti. Quindi mi interessavo della parte tecnica, diciamo così. Vari sistemi di trasmissione. Poi c'è stato il passaggio dall'analogico al digitale. Quindi mi sono trovato proprio in mezzo. E poi ho chiuso perché ormai le tassi... Questo per esempio quanto resterà in esposizione? Ma credo fino a febbraio, non c'è problema. Tanto è nostro e quindi lo posso aprire quando vogliamo, non c'è problema. Ecco anche la cascata, molto bella. La cascata sì, è abbastanza sì. Abbiamo un po' fatto un movimento di acqua e le luci. È una vera opera d'arte. E insomma, ma per me è normale. È normale, dalle tue mani è nato così ed è normale. Ed è normale, sì. Bene, però visto che ci sono i componenti della compraternita, se era possibile, perché noi ci troviamo tra l'altro in questo suggestivo posto che è la chiesa della Cicompraternita. Cicompraternita, Maria Santissima del Rosario, è stata fondata nel 1890 e quindi è stata un'attività liturgica durante il periodo di ottobre che è il mese dedicato alla Madonna. E poi, come qualche anno fa, abbiamo pensato di rifare il presepe. Complimenti perché l'avete fatto davvero molto bene, grazie a Dermano. Sì, insomma, è stata la collaborazione un po' di tutti perché, voglio dire, gli amici. Io, fin da piccolo, insomma, ho avuto questa passione per il presepe. Bravo, a te ti piace il presepe. Sì, è giusto. Poi sotto la spinta è l'indicazione di sua santità. Il Papa che ha detto che il presepe è stimolato il presepe che c'è in noi. A te ti piace il presepe? Lo so che sembra quasi banale chiederti, però, attenzione, sei talmente emozionato che stai chiedendo. Mi stavo chiedendo. A te ti piace il presepe? Sicuramente, sì. Grazie mille. Lo chiediamo anche al sindaco di Monteforto e Pino, Costantino Giordano, che, presumo, abbia davvero un cuore che si apre quando vede il presepe. Certo, innanzitutto ringrazio e mi complimento con il signor Armando, che oggi ci mostra il frutto del suo lavoro, fatto con orgoglio e con professione davvero. Quello del presepe è una tradizione in Irpinia, una tradizione di cultura in tutti i paesi dell'Irpinia, anche del sud Italia, diciamo. Quindi oggi Armando ci sta presentando questo capolavoro che ha fatto con grande passione e noi siamo davvero orgogliosi di poterlo ospitare qua, nella chiesa di San Vincenzo, a disposizione sua. Attenzione a come rispondi, adesso a te ti piace il presepe? E' come non piace il presepe? E' come miشo? Noi non c'è Noi